allora allora vieni dice cosa abbiamo allora qui intanto questo regalo qua era per babbo natale da babbo natale ero l'abbiamo anticipato quindi non si chiede più bobo natale e non è che vieni vieni non è che metti il posto un'altra cosa come detto tu invece buona ho chiesto già questa ne ne scelgo un'altra provavo natale no sì sì comunque facciamo vedere hanno preso anche questo vabbè allora fai vedere davvero andiamo a casa i coccolotti gira che il coccolotto col ciccio adesso andiamo a casa e siamo a casa fai vedere anche questa la borraccia di papà ovviamente mickey mouse e poi questa la tua e ballerina e fai vedere il giochetto peta che ti aiuto il giochetto opla e con la cannuccia track e via adesso andiamo a casa prima i coccolotti bene bonda e poi oggi è festa dei nonni e abbiamo già preso due robettine e poi andiamo a mangiare da bene si dice al papà e la mamma grazie mamma grazie papi bello tutti i cuoricini i bacini bene il bacio di questo era quello regalo di natale anticipato tu hai scelto si chiamerebbe già tommy neri francesi lili e darle un bacino soffiando ecco vedi che si illumina ma quali da il biberone fa qualcosa soffia di nuovo a viola verde rosso blu zorrino che quando si capisce bene a benda e ha capito il giochetto dai la mamma diceva che se lo ricordava che erano anche profumati si non profuma tanto vabbè non lo so se è una roba vecchio da magazzino comunque dai ho fatto questa sorpresina valice lì c'è dai adesso andiamo a festeggiare facciamo un altro video con i nonni